È stata presentata nella Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato a Pordenone la mostra Impressione Estratta, capolavori grafici dalla stamperia d'arte al bicocco. Roberto Budassi, qual è il valore di questa mostra? È un valore molto importante perché mette in evidenza come il linguaggio grafico, le tecniche grafiche, sono particolarmente congeniali all'espressione astratta, della forma astratta. Si pensa alla pittura, si pensa alla scultura, ma in effetti l'opera grafica è quella che meglio riesce a rappresentare i concetti dell'arte astratta. L'esposizione ripercorre oltre 40 anni di lavoro che la stamperia d'arte al bicocco ha intrapreso con alcuni tra i più importanti ed influenti maestri dell'arte contemporanea. Questa è un po' una sintesi di quello che era il nostro programma anche culturale per questo quinquennio amministrativo perché unisce quelle che sono le peculiarità del nostro territorio. Per cui abbiamo una mostra stupenda di arte contemporanea con delle firme di carattere e di carattura internazionale e una grande laboratorio artigiano che ha saputo produrre nel corso del tempo delle opere veramente fantastiche. In mostra 90 opere astratte, informali e geometriche di una ventina di artisti nazionali ed internazionali. Sono 40 anni di grande passione e in questi 40 anni ho incontrato tanti artisti di un certo livello. La mia collaborazione è stata anche molto lunga, Vedi Vedova, che ho lavorato per lui per oltre 30 anni però nell'arco di tutti questi anni ho lavorato anche per artisti come Giuseppe Santomaso, come David Tremlett come Gianni Scunelis che sono artisti secondo me di grande prestigio. Grazie a tutti.